Macchina che va per lo stacco Discosto Piccadilly Griff Stacco della macchina Veloce come di consueto Opuscomo che respinge Omnia Bro Che prova partenza sollecita e va all'attacco Va terza Nigelia, quarto Mazinga Fez Omnia Bro che va a cercare posizione E' imboccare la prima curva Posizione che trova dietro Opuscomo Che è il leader deciso Dopo i primi 200 metri con Manuel Galeazzi In regia, 15-1 Omnia Bro e Giglia Mazinga Fez Loretto Jet in corda Di fuori scoperto il primo è Mozart Bain Citrascina, Horace Must In coda a tutti, Piccadilly Griff Seconda frazione Che se ne va in leggero Rallentamento, 16-4 Non varia praticamente Nulla con Mozart Bain che Ha raggiunto all'esterno Mazinga Fez che rimane nel quarto La corda Una terza frazione ancora più comoda 16-7 Rallentato Opuscomo Cerca di graduare Mozart Bain per gradi Che risale Prova l'avvicinamento ai primi Opus che controlla Omnia Bro Di fuori Mozart Bain Horace Must Piccadilly Griff Di dentro Nigella Mazinga Fez in coda a tutti Orvar 16-4 Si riaccelera leggermente Al passaggio Opuscomo che ha potuto fare Il bello E cattivo tempo all'avanguardia Con i parziali che preferisce Dietro a lui Omnia Bro Mozart Bain che rimane là Horace Must In seconda pariglia In terza Piccadilly Si accelera di fronte Dopo un chilometro tranquillo Per la categoria Viene stappato Opuscomo E accelera di scatto A metà letto opposta Opus in fuga Omnia Bro Di dentro Poi gli altri Nelle medesime posizioni Non varia nulla Sul 15-1 Di fronte Mozart Bain che rimane Ai lati Di Omnia Bro Che rimane per il momento Chiuso Horace Must Che di scatto Prova uscire in mezzo La pista Seguito da Piccadilly Griff Tutti a ventaglio Sull'ultima curva Opuscomo Che accelera Davanti a Horace Must Che prova lo scatto Di dentro Omnia Bro Senza spazio Opus richiesto Omnia Bro Che va a cercare spazio E di fuori Piccadilly Griff Sul traguardo Horace Must Omnia Bro E Piccadilly Griff Terminano molto Ma molto vicini Sul caglio improvviso Di Opuscomo Che può essere Solo quarto La media di chi vince 1-19-1 Andremo a rivedere Le immagini A rallenti Sono finiti Molto vicini Tre concorrenti Con Piccadilly Griff A largo di tutti Andremo a rivedere il replay Opuscomo In calo Allo steccato Arriva Horace Must Di dentro Trova lo spazio giusto Omnia Bro E 50 finale A largo di tutti Finisce fortissimo Piccadilly Griff Sul traguardo Opuscomo E quarto Gli altri tre Tutti in lotta Per la vittoria Omnia Bro Forse si salva Dal numero 6 Di Piccadilly In mezzo Horace Must Noi attendiamo Sempre e comunque L'ordine dell'arrivo Arribile Cor Said